benvenuti su natura wild oggi sono andata a cercare buonetro sedulis castagno misto faggio questa è una nascita questi giorni abbiamo trovato diversi funghi adesso continuiamo perché dovrebbe essere un momento buono ma dopo infatti ci siamo spostati di poco oggi lunedì non c'è nessuno nel bosco abbiamo trovato un altro bocciolino questo ovviamente è sotto misura e non nascondiamo ciao a tutti questo invece è un fungo di misura un boleto sedulis e questo possiamo procedere alla raccolta ciao a tutti ancora giovani nasciti di boleto sedulis questi torneremo a prenderli nei prossimi giorni perché sono veramente piccoli anche se ci sono persone continuano a prendere funghi di questa dimensione sono molto piccoli ciao quando sono sotto la foglia questi funghi rimangono di colore bianco anche queste sottomisure lo lasciamo allora qui c'è questo bombolottino che lo lasciamo qua c'è quest'altro funghettino e questo invece lo prendiamo ciao cominciano a diventare più grossi e si riesce a trovare questa emozione questo è veramente un'emozione mamma mia che cos'è questo si commenta da solo questa è una fungherina un'emozione Grazie a tutti Allora la strada è lì La gente figlia va su La stessa regola Uno E la nascita Qui c'è la nascita E qua C'è la sorpresa Eccolo là Guardate il capolavoro della natura è questo Eccolo Sì Sì